Sì, sì, è un record per una manifestazione bellissima che abbiamo sempre fatto in questa città con grande successo e continuiamo a farla sempre con grande successo. Cosa ci si aspetta da questo 2018 per i Varazzini? Io mi aspetto delle grandi cose da 2018, mi aspetto una rivoluzione sulla città dal punto di vista di tutta la programmazione che abbiamo fatto in questi tre anni e mezzo, che vedrà nel 2018 la sua conclusione. Questa programmazione ha ad oggetto il rifacimento con tanto di pedonializzazione di Piazza Dante, quindi il mercato coperto sotto il palazzetto dello Sport, la demolizione dei cantieri Baglietto e quindi il progetto complessivo del porto, la caserma dei pompieri, il rifacimento dell'immobile delle vecchie scuole di Alpicella. Insomma, e tante altre opere che sono in corsa. Questo mi aspetto.